Abbiamo adottato un disegno di legge in particolare che vi segnaliamo sulla concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, la prevenzione dell'assenteismo e qui la ministra proponente Giulia Bongiorno ci dirà, ce lo illustrerà e poi vi parleremo del decreto sulle emergenze e qui saremo io e il ministro Toninelli qui presente che ve lo illustreremo. Cederé la parola al ministro Bongiorno.